POTENTE A PARA RAGAZZI Quindi unirò diciamo due serie Quella del wager match e del pack opening Ovviamente il momento di apertura dei pacchetti Durerà pochissimo ecco però È un'idea appunto che mi è stata data da voi Quindi vi ringrazio alla grande Comunque ragazzi allora innanzitutto una piccola curiosità Il giocatore che andrò a sfidare Ci ho già giocato due volte entrambe con in palio 100 mila crediti E ho perso in tutte e due quindi potete capire Il crimine dove era Questo è successo ieri E quindi ho detto Avevo registrato anche la prima solamente ho perso l'audio Però ora è storia Questa è la bella perché è 2 a 0 per lui Mettiamo caso che si arrivi al meglio Si faccia al meglio dei 5 Quindi se chi arriva al primo 3 vince Io devo vincere per forza Perché se no pensate un attimo Solo io gli ho dato 300 mila crediti Che è una cosa abbastanza tattica Comunque andiamo un attimo a vedere Contro chi gioca Vi faccio vedere il mio sfidante Anzi no lo andiamo subito a giocare A giocarsi Lo andiamo ad invitare Prima vi faccio vedere un attimo la squadra Che è questa Nel caso la vincerò Metterò subito all'asta Credo Neymar Per appunto prendere il giocatore Che andrò a mettere in palle Nel pink palle Quindi boh Si vedrà Applichiamo l'allenamento squadra Che è questo qua E andiamo ad invitarlo Vi ricordo che se volete Comprare crediti Vi consiglio di andare su A prendere le punte A FIFA con il Stash Che per adesso Mi sembra che sia Il sito più economico Di crediti di FIFA Costano solamente 8,50 Sia per Play Sia per Xbox Comunque partita singola Online non è quel Che dobbiamo fare Quindi non capisco Perché io l'abbia schiacciato Comunque Ah si Sempre riguardo il FIFA con il Stash Se vi serve il tutorial È il mio ultimo video Una cosa abbastanza tattica Gioca con amici online Allora Solo inizia con la M Adesso vi dico subito Come si chiama Come ho fatto All'inizio Ho già fatto l'offerta Perché Ebbene si ragazzi Anche per una questione Beh non dico De affidabilità Però Per non trovare Il furbacchione Che poi magari Dopo aver perso Se ne scappa Con i suoi crediti Faccio fare l'offerta prima Poi se vincerò L'accetterò Se la perderò La rifiuterò E comprerò In un giocatore L'avversario A 100.000 crediti Allora Dai Luciano Squadra bagatissima Eh no Cambia Cambia maglia Cambia maglia No mannaggia Vabbè Trank non si dovrebbero confondere Vediamo la squadra Che non mi ricordo già più Mi sembra fosse Abbastanza buggata E l'ha cambiata Evidentemente Ha usato i 200.000 Che gli ho dato io ieri Perché Mamma mia Royce Gundogan Lukaku If Miraias Fernandinho Fellaini Vidic Mannaggia Sti cazzi Allora Ragazzi Vi chiedo un attimo Una cosa Se per aiutarmi a vincere Magari battete due volte le mani Quindi E così È sempre un qualcosa in più Alla modo di Goku Che chiede di alzare le mani Per ricevere L'aurea Diciamo Il chakra Dei Degli umani Faccio la stessa cosa Per cercare di vincere La partita Dai Via Via È partita È partita la partita Dai Dobbiamo stare Calmiamo Ma che stiamo Calmiamo No Non iniziamo Che questa Devo vincerla Mi ha già segnato Mi ha già segnato Io sapevo Di non doveva fare Sta partita Mannaggia La salsiccia Possesso palla 100% Come avete Ho toccato abbastanza palla Tiri 1 Un importo Un gol Abbastanza equilibrate Vediamo un attimo Prestazioni Stefano e Sarawi Migliori giocatori Non si sanno ancora Chiediamoci il motivo Al terzo minuto Sto già perdendo 1 a 0 Questa si preannuncia Una partita Molto bella Via Bellissimo Sono partito Alla grande Alla grandissima Vai Ma io Però Dovete sapere una cosa Anche ieri Facevano delle cose Scandalose I miei giocatori Tipo il suo tiro Di adesso Non ne prendevano Una giusta Che è quello Che sta succedendo Bello Ragazzi Sono strappreoccupato Veramente Perché Perdere 300 Che praticamente Sono tutti i crediti Che ci avevo Che ci avevo C'è la neva Opla Hulk Hulk No Alla Zalziccia Fuori gioco Dai L'ho visto pure io L'ha vista anche Marotta Pissimo Ragazzi Non si può neanche più mettere A meno che Se l'abbiamo già messa No Non l'abbiamo messa Ti prego No Ha sbagliato L'hai visto L'hai visto Hulk No Tira di testa Da fuori area Oh ma Ma mi sta Arando Ieri Era una partita Abbastanza equilibrata Va bene Mi sa Ho come questo Presumo Alla grande Che ho perso Questa partita Non La madonna Non so Cosa Me lo fa pensare Ma mi sa Che questa partita L'ho Persa Persa Sì Ma Come vedete I miei giocatori Stanno giocando Veramente bene Fanno un colpo di testa Cadono per terra Poi vabbè Parliamo di buffon Che sta giocando Alla grande E pure Di questi Rim Ma non è possibile Dai Ci crediamo Ci crediamo I miei non Almeno uno Uno Dai dai Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Jonas Nella balena La parata No ma Ma stiamo Scherziamo No